belen rodriguez in tv dopo molto tempo racconta com'è finita con stefano de martino il ballerino 27enne protagonista di selfie con l'ex moglie ha lasciato la showgirl con un messaggio su whatsapp stefano de martino ha selfie durante uno dei siparietti con l'ex belen rodriguez sono stata lasciata da stefano de martino con un messaggio su whatsapp spiega belen rodriguez poi si è pentito ma non voglio colpevolizzarlo perché anch'io ho fatto degli sbagli ora selfie si lanciano frecciatine con il sorriso sulle labbra eppure la 32enne ha sofferto maledettamente per essere stata lasciata da stefano de martino con un semplice messaggio su whatsapp l'applicazione di messaggistica che tutti ormai usano nel proprio quotidiano per comunicare con parenti amici e colleghi di lavoro posso dire di avere la coscienza a posto non ho nulla di cui rimproverarmi io ci ho provato in tutti i modi con stefano poi è andata come è andata e non ho potuto perdonare perché ho una dignità e a un certo punto non ce la faccio a passarci sopra aggiunge belen rodriguez i rapporti quelli che li hanno portati a lavorare anche insieme come ora a selfie con il tempo sono migliorati non è facile soprattutto all'inizio quando due persone divorziano all'inizio i rapporti non sono mai buoni perché è una frattura un fallimento racconta l'argentina poi per intelligenza uno si riavvicina per il bene del proprio figlio adesso santiago ci vede anche insieme quando il papà me lo riporta e abbiamo un rapporto tranquillo e abbiamo un rapporto tranquillo